C'è il fumo. Quanta? Cinquanta. Non hai comprato roba? Niente. Guarda che non è la domanda, ragazzi. Scusa, 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 scusa! Non sono un criminale. Non sei un criminale, non eri un criminale. E più non ti accecarmi a ballare. Vai lì, ci balli un po'. Oh, ma scusa, mi non volevo. Cazzo stai... Quindi non è cambiato un cazzo da prima? No, qualcosa è cambiato. Mi vuoi dire se sono in arresto o no? Sono in arresto o no? Non è cambiato un cazzo da prima. No, non sono in arresto o no? Non è cambiato un cazzo da prima? Grazie.